Il clima politico a Cittanova in vista delle prossime elezioni comunali diventa torbido dopo l'atto intimidatorio nei confronti dell'autovettura del vice sindaco Anselmo Ladelfa. I gnoti l'altro ieri notte hanno danneggiato la macchina in uso alla famiglia dell'amministratore cittanovese parcheggiata sotto casa. Il percorso di non usuale frequentazione per raggiungere l'abitazione del vice sindaco e l'impiego della sabbia per danneggiare la vettura inducono gli inquirenti ad escludere l'occasionalità dell'evento o dell'atto vandalico di per sé ma privilegiano la matrice politica. Ladelfa, oltre a ricoprire la carica amministrativa nell'aggiunta guidata dal sindaco Francesco Cosentino è dirigente regionale del Partito Democratico e nell'occasione ha dichiarato che ognuno di noi nella società in cui vive e lavora ha il preciso impegno di partecipare all'attività della vita pubblica, a volte precisa. Questo determina una sovraesposizione che comunque vale la pena di correre. Pronto il soccorso cittadino e provinciale del Partito Democratico che in un comunicato congiunto respingono con fermezza l'intimidazione occorsa al suo iscritto condannando il grave atto criminale ed esprimendo fraterna vicinanza e solidarietà alla sua famiglia. È un atto sostengono che mira a colpire l'azione di chi è impegnato nell'amministrazione pubblica e nel privato contro sopprusi e tentativi di pressione o ingerenze. Gli ideatori e gli esecutori di questo attentato, prosegue il PD, non tollerano l'impegno a far affermare la legalità, la trasparenza e gli interessi della comunità cittadina. Non sarà certo questo vile atto intimidatorio a far recedere l'impegno dei democratici e ne siamo certi dell'amministrazione comunale. Condanna e solidarietà da parte del sindaco Francesco Cosentino e dal consigliere regionale Francesco D'Agostino.